ariete giornata frenetica e nervosa mal sopportate le difficoltà del quotidiano e vi alterate per cose di poco conto meglio calmare lo spirito bollente e darsi delle priorità per non accumulare impegni e stress l'amore torna ad offrire momenti caldi toro molto movimento fisico e mentale per voi che adesso vorreste realizzare mille cose contemporaneamente e talvolta vi affaticate pur di raggiungere un obiettivo il periodo comunque è benevolo e foriero di soddisfazioni e novità positive gemelli venere e sole sono in transito nel vostro segno e rendono appassionati i sentimenti le relazioni amorose inoltre vi inclinano a concedervi più spazio e più gratificazioni sensuali in una visione edonistica della vita cercate tuttavia di mantenervi entro limiti ragionevoli cancro la luna nemica e un assetto astrale faticoso rendono il periodo effervescente ma possono farvi accumulare qualche tensione dovuta ad un modo apprezzato di affrontare ogni questione fate un respiro e non pretendete tutto e subito leone la giornata si adagia su atmosfere rilassate che vi infondono un benessere di fondo prevale l'ottimismo e la vostra anima solare siete favoriti nella sfera amorosa dove incontri e sintonia con chi amate riempiono il vostro tempo ma non disdegnate anche qualche piacevole lusso vergine il cielo astrale vi vuole determinati e agguerriti in vista di obiettivi che vi stanno a cuore c'è una certa pressione nelle vostre giornate ma anche una forza prepotente e razionale che vi invita a proseguire il percorso iniziato qualche ombra potrebbe cadere sulle faccende amorose bilancia la luna di passaggio nel segno ammorbidisce le sensazioni e vi inclina al buon umore in questa fase ambivalente a fratti pesante per alcune problematiche da risolvere ma a volte anche fuoriera di avvenimenti piacevoli di sprazi di entusiasmo scorpione un assetto astrale di grande forza vi spinge a prendere iniziative e concretizzare un programma che coltivate da tempo passionali e attivi siete incrollabili anche se ogni tanto siete messi alla prova con qualche competizione a voi non vi tirate mai indietro sagittario è una fase che fiacca un po le vostre energie e la voglia di fare siete alle prese con la revisione di un programma o di un rapporto sentimentale e non tutto vi reca soddisfazione non ingigantite le difficoltà in fondo tutto è rimediabile capricorno momento di grande fermento che vi porta a muovervi fisicamente e mentalmente affrontando molte situazioni contemporaneamente tutto questo può faticarvi meglio organizzarsi in maniera adeguata e non lasciarsi avvolgere da ansie controproducenti acquario periodo di vigore e benessere siete favoriti nelle faccende di cuore inclini agli innamoramenti e non solo il desiderio di lasciarvi cullare dai piaceri della vita è forte e quindi fatevi trasportare da questa onda benevola e appagante che cura qualche ferita pesci fase di grandi progetti affrontati con spirito battagliero e determinato siete alle porte di un cambiamento importante e non vi manca l'audacia qualche dissapore in amore con chi amate dovete prendere coscienza di qualcosa che non funziona buone stelle